Per festeggiare i suoi primi vent'anni di vita, il Museo Diocesano di Milano sta creando iniziative su iniziative. Quest'ultima è davvero interessante. Si tratta di una mostra dedicata a un'opera particolarmente rara e preziosa, il presepe di Francesco Londonio. Eppure non è fatto di materiali pregiati o figure monumentali, si tratta infatti di un presepe di carta, ma proprio per questo è particolarmente raro, proprio perché è delicato e l'unica opera di questa qualità, di queste dimensioni che è giunta fino a noi. È stata donata generosamente proprio al Museo Diocesano, l'hanno restaurata e ora dal 25 novembre fino al prossimo 6 febbraio sarà esposta al Museo Diocesano, quindi proprio un graditissimo regalo di Natale. L'autore, abbiamo detto, è Francesco Londonio, ovvero uno dei più importanti pittori del Settecento in Lombardia. Questo presepe è composto da 60 figure che sono sagomate, ritagliate su cartoncino e poi appunto colorate, secondo quella che era la tradizione proprio presepistica, potremmo dire, milanese dell'epoca. Sono figure molto delicate, molto graziose, che ci mostrano un'umanità semplice, fatta da poveri, da contadini, da lavandaie, tutta una folla che si raduna attorno proprio alla mangiatoia di Betlemme, attorno al bambin Gesù. Del resto Francesco Londonio era veramente un pittore di grande delicatezza, di grande sensibilità. Sono famosi soprattutto i suoi ritratti, possiamo dire proprio così, di animali. E noi guardando questo presepe ancora oggi veramente torniamo bambini, sogniamo i Natali della nostra infanzia e del nostro passato. Di tutto questo parliamo proprio sul numero di questa domenica di Milano 7 a venire. Non ci resta quindi che tornare ancora una volta al Museo di Ocesano ad ammirare questo piccolo grande capolavoro e poi già che ci siamo andare anche a vedere il capolavoro che arriva da Napoli, l'annunciazione di Tiziano.